Oggi voglio parlarti di un evento dedicato all'immobiliare alla città di Genova. L'evento si chiama Brain Working e si rivolge a due categorie distinte di persone. La prima a giovani diplomati e laureati che vogliono iniziare la carriera nel settore immobiliare attraverso un percorso di formazione retribuito. La seconda invece riguarda agenti immobiliari che siano già in attività e che sentano il bisogno di lavorare in team all'interno di una struttura che garantisca loro servizi e soprattutto garantisca loro di conservare la propria identità professionale. Brain Working si terrà sabato 14 aprile a partire dalle 8.30 fino alle 13 nella prestigiosa location di Palazzo Grillo in Piazza delle Vigne numero 4. Abbiamo diviso la mattinata in due sessioni distinte quindi la prima che partirà con una colazione offerta quindi alle 8.30 rivolta ai giovani diplomati e laureati e la seconda parte riguarderà invece gli agenti immobiliari già abilitati inizierà alle 11 e terminerà alle 13 con un aperitivo di network. Durante la mattinata si susseguiranno diversi redatori quindi avremo Massimo e Fabrizio Segalerba agenti immobiliari da oltre 20 anni a Genova che ci racconteranno i vantaggi di lavorare in un sistema, in un modello gestionale certificato ISO 9001. Poi ci sarò io che vi racconterò come è cambiato, come si è trasformato il settore immobiliare nel corso degli anni e quali opportunità il settore può riservare sia a persone che vogliono iniziare questo percorso professionale sia invece per i professionisti che hanno bisogno di accrescere e sviluppare i propri business. Avremo anche il piacere di ospitare Rudy Bandiera una vera star del web, autore, docente, speaker, noto che ci aiuterà a capire come mettere a frutto la comunicazione in ambito digitale per comunicare meglio con le persone e quindi col mercato. Ci saranno anche due ospiti importanti, due start-upper Patrick Albertengue con la sua Agion Pricing ha creato un sistema di valutazione immobiliare grazie all'utilizzo dei big data e Edoardo Ribicheso che con Realistico ha reso accessibile il virtual tour agli operatori del settore immobiliare e ai loro clienti. Questi due giovani ci racconteranno come vedono l'evoluzione del mercato immobiliare e della processione da qui ai prossimi anni. L'evento è assolutamente gratuito ma la registrazione è obbligatoria i posti sono pochi quindi vi invito a cliccare sul link che trovate qui sotto nei commenti e prenotare il vostro posto all'interno della piattaforma Eventbrite. Vi aspetto quindi sabato 14 aprile a partire dalle 8.30 a Brainworking non puoi mancare!